Buonasera a tutti siamo qui io e la safety car quest'anno abbiamo raccolto oltre 875 auto sportate in tutta l'Italia per le corteie auto storiche addormirte la vettura ha raggiunto il record di 1875 auto storie sportate nell'anno 2015-2016 noi vogliamo augurarvi io e lei un buon Natale, buone feste e un buon inizio anno e vi attendiamo con il club, la manorella del fermato e la scuola di Marchi per le prove del campionato Marchi e per le parecane che vedrete i ritorni praticamente dove noi saremo protagonisti arrivederci a tutti buon Natale e buon anno da Sanlo Parigi e la safety car